Non solo bar, ristoranti e teatri. Il covid condiziona pesantemente anche i bilanci delle farmacie. Le 16 di Prato Farma, di cui il comune detiene il 20%, vedono dimezzato l'utile 2020 rispetto all'anno precedente. È quanto è emerso ieri nel corso della Commissione 6 contro le garanzia, in cui il presidente della società, Stefano Lenzi, è stato chiamato a fare il punto della situazione. Il bilancio consolidato del 30 marzo 2020, riferito al 2019, ha fatto registrare un utile di quasi 600 mila euro. Il previsionale di chiusura che sarà approvato a fine mese indica un utile di 300 mila euro, ossia la metà. Molteplici le cause di questa riduzione, le restrizioni covid che hanno portato a una riduzione degli accessi nelle farmacie, la situazione economica più difficile che ha portato alla minor vendita di prodotti di cosmesi e di solari, è anche un aspetto positivo legato all'uso della mascherina e al maggior tempo trascorso a casa, ossia l'assenza di case di influenza. Emblematico, racconta Lenzi, quanto registrato alla farmacia 2, quella all'ex ospedale, dove siamo passati dai 360 sciroppi venduti a gennaio 2020, quindi prima che scoppiasse l'emergenza covid, ai 3 dello scorso gennaio. Utile di mezzato, ma la società presenta comunque conti in ordine. Prato Pharma sta bene, afferma Lenzi, non ci sono situazioni di indebitamento a breve o a lungo termine a cui far fronte. In più siamo riusciti anche a ridurre i costi di marketing e a incrementare il servizio di consegna farmaci a domicilio gratuita, grazie a una specifica app che abbiamo messo a punto e che stiamo promuovendo. Ci tengo a precisare che i servizi non sono diminuiti, anzi.